Se si votasse oggi per le elezioni regionali in Sicilia, oltre 2 milioni e mezzo di cittadini resterebbero a casa. Su 4 milioni e 600 mila elettori si arrecherebbero alle urne circa 2 milioni di siciliani, molto meno della metà degli aventi diritti. E' quanto emerge da un'analisi condotta dall'Istituto Demopolis a quattro mesi al voto di novembre per l'elezione del nuovo presidente della regione ed il rinnovo dell'Ars. Secondo il direttore di Demopolis Pietro Vento si avverte una chiara compromissione della fiducia dei cittadini nei partiti e nelle istituzioni regionali. Una larga maggioranza dei siciliani appare convinta che la politica, anche per assenza o cattiva gestione delle risorse, non sia più in grado oggi di incidere sulla vita reale delle famiglie e sulle prospettive delle nuove generazioni. La fiducia nei partiti, come emerge dal trend del barometro politico Demopolis, raggiunge il suo minimo storico e crolla al 4%, 16 punti in meno rispetto a dieci anni fa. E' una regione, la Sicilia, che paga in modo rilevante gli effetti della crisi degli ultimi anni. Il 53% di chi vive nell'isola ritiene peggiorata rispetto a cinque anni fa la situazione economica della propria famiglia, che rimane invece più o meno uguale per il 42% dei cittadini intervistati. Durissimo il giudizio dei siciliani sulle mancate politiche per la crescita e per il lavoro da parte della regione. L'85% dei cittadini valuta negativamente le politiche per lo sviluppo e l'occupazione attuale in Sicilia negli ultimi anni dal governo regionale. In base alla proiezione odierna, spiega il direttore Pietro Vento, con una stenzione al 55%, considerate le schede bianche nulle, si avrebbero oggi alle regionali appena 1.900.000 voti validi. In uno scenario con tre o quattro competitor, il prossimo presidente della regione potrebbe essere eletto con 600-700.000 voti, di fatto gli aventi diritto al voto di una sola provincia come Messina, poco più della metà degli elettori chiamata alle urne in provincia di Palermo. A quattro mesi dal voto del 5 novembre, conclude Pietro Vento, la partita per Palazzo d'Orlean è appena iniziata.